Sì, volevo parlare riguardo alla situazione del concerto di Vasco Rossi e volevo aggiungere che la sera dopo il concerto, per non smontare tutto quell'ambaradan solo per una data, che sarà un concertone di artisti legati ai nostri genitori. Mi sembrava giusto anche per loro vedere i loro beniamini e avremo su quel palco star del calibro di Bruno Laussi, Domenico Modugno, El Soianacci, Califano, Gaber, Ivan Graziani, Lucio Dalla, Rino Gaetano e dopo che sarà il trio Dario Baldam e Bembo. Volevo segnalare che c'è una trattativa anche per l'Igabue all'Interporto, lì bisognerà fare un squerzer con dei teli di gente alla zona degli schiappodetti, sbararghe su ai gabbiani, Lady Gaga e Katy Perry alle albere. Il concerto sarà ad entrata libera per i residenti delle albere, quindi i primi quindese posti gli è già stati prenotati. Si sta valutando la possibilità di una riunione dei Poo con quel che avanza dei camaleonti per un concertone alla terrazza di Sardagna. Si sta parlando col tour manager del trio Il Volo per fare una data al Caproni sotto Natale. Dopo per farvi capire che non è Ciacere, noi da tempo, prima, tempi non sospetti, avevamo pensato a organizzare degli eventi qua in Trentino e avevamo da parlare, era quasi confermato, è un concerto dei Queen al Parco di Gociadoro, ma dopo abbiamo appreso che Freddie Mercury, insomma, maledetto Covid.